Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo della mia stanza e da oggi inizia il mio percorso di rimessa in forma. È ormai da troppo tempo che vivo in un corpo che non sento mio. Da oggi parte questo percorso, oltre che il mio percorso di dimagrimento, parte questo percorso su YouTube con voi in cui mi racconterò e vi racconterò quello che sarà il mio cammino verso il raggiungimento del peso forma. Parto subito con il raccontarvi come sono giunta qui e come ho intenzione di proseguire, ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. Ho iniziato ad avere seriamente problemi con il peso ormai già da qualche anno, ma fra visite da nutrizionisti e diete un po' fai da te, in realtà ero sempre riuscita a, quando andavo oltre con il peso, a ritornare nei ranghi e a recuperare la mia forma. Questo perché per tanti anni ho avuto come grande complice il mio lavoro che mi portava a fare una vita tutt'altro che sedentaria. Per chi non lo sapesse, io sono una maestra di danza, di ballo, sì, sono due cose diverse, e istruttrice di zumba. Capirete bene che per tanti anni ho fatto la vita per cui per sei giorni a settimana ballavo dalle 15 alle 22 e quindi la mia si poteva definire assolutamente una vita ultra attiva e tutt'altro che sedentaria. Questo, oltre che portarmi a bruciare tantissime calorie in ogni mia giornata, mi ha portato anche ad avere l'abitudine di poter mangiare quello che volevo, quanto volevo, quando volevo, insomma, potevo fare un po' come mi pareva. Poi, per tutta una serie di vicissitudini, la quantità, la mole di lavoro che facevo ha iniziato a diminuire ed è diminuita di tanto. Così, mi sono ritrovata nel 2017, alla soglia dei 40 anni, a portare una taglia 50. Nel 2019, chi mi segue da allora, credo che lo sappia e se ne ricordi benissimo, ho fatto l'ennesimo percorso in solitaria, in fai da te, e nel giro di pochissimi mesi sono riuscita a perdere la bellezza di 20 chili, il che non è stato proprio un gran bene, perché perderli così in fretta non è stato un bene. A questo aggiungiamo che, come tutti ben sappiamo, è arrivata la nostra amatissima pandemia, amatissima ovviamente un efoemismo, che mi ha portato, mi ha praticamente scaraventata sul divano per ben due anni. Sapete benissimo che noi, istruttori fitness e insegnanti di ballo, per due anni non abbiamo lavorato, quindi la mia vita si è totalmente stravolta da un momento all'altro. Mi sono ritrovata dal ballare, muovermi, consumare, poter mangiare come volevo, allo stare sul divano, con le abitudini alimentari che avevo tenuto per anni e che, credetemi, è difficilissimo cambiare. A questo aggiungiamo che, lo sapete, c'è stata la malattia di mio padre, poi mio padre l'ho perso, c'era la preoccupazione per il lavoro che non c'era più, questa la casa non si regge senza soldi. È stato insomma un periodo davvero molto molto brutto, che anche e soprattutto a livello psicologico mi ha portata a rifugiarmi nel cibo e quindi mi ha portata alla scorsa estate a risalire di peso ed è arrivare ad una taglia 52. Durante la scorsa estate, quindi, è iniziato a maturare in me il pensiero non di dimagrire, quello già lo sapevo, figuriamoci, ma il pensiero che questa volta da sola non avrei potuto farcela, che avrei avuto assolutamente bisogno dell'aiuto di un professionista, dell'aiuto e della guida di un professionista e quindi ho iniziato a cercare, a guardarmi intorno, a chiedere un po' alle persone che conosco, ma anche a cercare online. Il problema è che mi ritrovavo sempre a vedere, a conoscere figure che non mi piacevano, persone che proponevano, propongono l'ennesima dieta che va di moda, in questo momento è la chetogenica e quindi mi ritrovavo davanti a figure che non erano quello che stavo cercando. Finché un giorno, sul finire dell'estate, mi sono ritrovata sulla pagina Facebook di questo studio che parlava, parla, di dieta mediterranea, di educazione all'alimentazione e mi sono rimasta subito colpita. Ho continuato a pensarci per un po', soprattutto ho voluto aspettare di vedere se ricominciavo a ballare, se ricominciavo a lavorare, a settembre ho ricominciato. Intanto devo dire che il ricominciare a ballare mi ha fatto un po' scendere rispetto a quest'estate ma comunque, come vi dicevo qualche giorno fa in un altro video, non ho quella forza di mettermi da sola e quindi qualche giorno fa ho preso, diciamo, il mio coraggio, ho alzato il telefono e ho fatto la chiamata per cui ho preso l'appuntamento per il primo consulto. Sono andata e mi sono ritrovata esattamente davanti alla persona che mi aspettavo che avrei trovato devo dire che la pagina Facebook rispecchiava bene quello che poi ho trovato realmente. Insomma, Amerigo, così si chiama il mio nuovo nutrizionista, mi ha subito convinta. E mi ha convinta già solo per il fatto che mi ha detto lo sai vero che dovrei fare gli esami del sangue perché se io non ho chiarezza e contezza del tuo stato di salute non posso far nulla. Già solo da questo ho capito che mi ritrovavo davvero davanti ad un professionista perché credetemi non è affatto scontato. Io mi sono rivolta a nutrizionisti più volte nella mia vita, mai nessuno mi ha fatto fare le analisi del sangue, mai nessuno si è preoccupato di chiedermi che tipo di attività fisica svolgevo. Addirittura l'ultima volta nella dieta mi sono ritrovata la scritta si raccomanda di fare almeno 20 minuti di passeggiata al giorno e io allora facevo 7 ore di danza al giorno il che significa che la persona a cui io stavo dando i miei soldini non aveva assolutamente l'idea di chi avesse davanti. Ho fatto gli esami del sangue e sono tornata allo studio per un secondo appuntamento. Questo secondo appuntamento mi è stata fatta la BIA che è l'esame in pendenziometrico della composizione corporea. In parole povere, attraverso questo macchinario si capisce da che cosa è composto il fisico della persona, il mio fisico in questo caso. Quindi quanta massa grassa ho, quanta massa magra, quanti liquidi, quanti fluidi corporei e come sono, diciamo, situati questi fluidi corporei. Adesso io sto parlando molto alla buona perché non è il mio campo. Vi dico quello che è stato spiegato a me. In realtà vi dico quello che a me è arrivato, che non è detto proprio nelle... cioè non mi è stato detto proprio con le parole che sto usando io. Ma calcolate che se fosse questo il mio mestiere non sarei qui ora. Comunque stavo dicendo dei fluidi corporei, quindi se sono ben idratata, se i liquidi che ho in corpo sono extracellulari o intracellulari. Insomma, c'è questa figurina che dice Scarlett com'è fatta fisicamente. Da questo, dagli esami del sangue, dallo stato generale di salute e dallo stato di composizione corporea, è stato creato questo programma settimanale che dovrò seguire. Avete capito bene? Perché non mi è stata data una dieta in cui giorno per giorno mi viene imposto di mangiare tot, 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 tot e tot, ma mi è stato dato un programma che io posso seguire nel quale posso scegliere ogni giorno cosa mangiare. E questo per me è una grandissima cosa. Un po' perché mi sento che mi educa ad imparare a mangiare e quindi è una cosa che poi potrò tranquillamente seguire per tutta la vita e non mi porterà a rifare sempre gli stessi errori. Un po' perché anche perché io ho bisogno di questo visto che sono affetta da termografismo e ci sono momenti in cui certe cose io proprio non le posso mangiare perché mi scatenano l'orticaria, quindi me la posso gestire benissimo da sola. Cioè, me la posso gestire da sola seguendo le indicazioni. Ieri Amerigo mi ha detto se tu riuscirai ad arrivare all'obiettivo che ci siamo posti sarà assolutamente merito tuo, non sarà merito mio, io sono solo un tecnico che sta qui e che ti guida a compiere i giusti passi. Quando lui ha detto io sono un tecnico che ti guida io me lo sono immaginato con il vestito da maestro Jedi è diventato praticamente il mio maestro Yoda. Vabbè, queste sono cose da fan di Star Wars. Però è vero, mi sento nel posto giusto con la guida giusta. Quindi adesso come funzionerà? Io ogni settimana ho l'appuntamento fisso ogni mercoledì mattina per la pesata, per vedere come vanno le cose, se la dieta funziona e ogni settimana in base a come risponderà il mio corpo questa guida sarà riformulata e si andrà avanti. Avete capito bene? Ogni settimana e non ogni mese, 20 giorni, come fanno praticamente tutti, almeno tutti quelli che ho conosciuto io. Quindi so già che c'è chi ogni settimana vede come vanno le cose. Mi sarà impossibile praticamente perdermi. perché ogni mese è più facile che uno si perda nei primi giorni e poi recupero dopo. Insomma, invece così ogni settimana devi rigare dritto e andare bene per la strada. Poi ogni quattro settimane ripeteremo questo esame, la BIA, per vedere come cambia la composizione corporea nel tempo. Quindi davvero io mi sento che sono arrivata nel posto giusto, sono arrivata dalla persona giusta e che ho iniziato il giusto cammino. Adesso noi ci rivedremo, se ne avrete voglia, io farò il video una volta al mese di modo che faccio il video praticamente dopo che ho fatto la BIA così ho contezza reale di quello che sta succedendo e che vi posso raccontare. Ho intenzione, questo video di oggi è il primo video un po' esplicativo ma ho intenzione di porvi la cosa sotto forma di vlog per farvi vedere anche giorno dopo giorno come mi sento, come reagisco, come sto, qual è il mio stato mentale rispetto alla cosa, se mi sento meglio fisicamente, vedrete, si spera, quando inizierò a mettere i vestiti più piccoli, insomma tutte queste cose. Se avete notato non vi ho parlato di numeri, non vi ho detto quanto peso, non vi ho detto quanti chili devo perdere, sappiate solo che tutto tanto. quindi il cammino sarà lungo, mi piacerà l'idea di condividerlo con voi nella speranza di essere d'ispirazione a chi è nella mia stessa situazione, nella speranza di che voi siate anche un ulteriore controllo nei miei confronti perché il dover il dover rendere conto a voi il dover lo voglio, però il rendere conto a voi è un'ulteriore spinta ad andare bene e a continuare come si deve. Stavo dicendo non ho parlato di chili ma facciamo così. Io ho fatto due fotine, ve le metto qui, poi vediamo in base all'editing, una di profilo ed una, cioè una frontale ed una di profilo. Credetemi, a me costa tanto farvele, farvi vedere come sono realmente ora perché mi rendo conto che vista così e la maggior parte delle volte voi mi vedete così è tutt'altro che vista in questo modo però anche questo mi ha spinta a capire che dovevo fare qualcosa perché se io poco poco mentre vloggo con voi mi giro già così già vado in panico già non mi riconosco perché io non sono quella che vedo. Si parla tanto di body positivity è vero ma la body positivity non è accettarsi essendo in una fascia di obesità io sono nella fascia nella seconda fascia di obesità che è tanto è davvero tanto e a livello non solo fisico ma proprio a livello di salute non va bene questa cosa quindi la body positivity non è accettare continuare a mangiare non fare nulla per cercare di stare meglio come sto vedendo in giro tante persone si vantano di essere no non è questo body positivity è accettare il proprio corpo per quello che è ma cercare sempre di migliorarlo e cercare sempre di stare bene io ho da tempo accettato il fatto che non sarò mai longilinea non sarò mai magrissima perché non è il mio corpo io avrò sempre un bel seno avrò sempre i fianchi rotondi questo io lo accetto ma non accetto di essere quella che sto vedendo in questo momento nella fotocamera perché non sono io perché ho paura perché adesso ho una certa età e la paura è maggiore perché non ci vuole niente che mi viene un infarto non ci vuole niente a farmi che mi venga l'osteoporosi e tutti i problemi che sono legati allo stato di salute non buono dovuto al sovrappeso dovuto all'obesità chiamiamola per quella che è non sono una ragazza curvi in questo momento sono una ragazza obesa perché curvi e obese sono due cose molto molto diverse adesso ho già parlato troppo vi ho fatto vedere come sono ci rivediamo fra un mese per ripercorrere insieme in video questo mese e per vedere a che punto siamo arrivati io spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io posso salutarvi per questo video è tutto se vi va ci vediamo al prossimo video vi mando un grosso bacio ciao noi ci vediamo lunedì